Salve Noi mi sa che dobbiamo essere proprio qua, quindi si... Così, passando gli diamo un calcetto Accesso Niente vuoto Ups, un po' troppo forse Vabbò Sì Ciafra Eh, era già morto Niente, ok Cosi metallici e parti di... come cazzo si chiama? Buh Su 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 Scala rotta Può 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 Eh, non lo so se dobbiamo effettivamente... No, non credo, la porta aperta Eh... Beh Sì Tocca Sento un po' di... Sono sopra Sì 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 Oh cazzo Eh va E' andata così, fratelli Su Ancora vivo, sai bro Ma come cazzo ti permetti Ah, fantastico Vabbò Aiuto! Chiunque! Questo beat è davvero spaventato le persone. non ha funzionato oh cristo ok cristo speravo che ci mettesse qualche secondo per esplodere va bene ok ciao frate ma se manco sai chi sono magari sono peggio degli zombie mutilante da mischia in un comune aumenta le chance di mutilare ok no in realtà come vedete minte danni vabbè colpisce in sequenza infertilineo zombie applicano anche l'effetto di indebolimento che non spiega però esattamente cosa è se si colpisce uno zombie indebolito si rigenerà la resistenza questo potrebbe pure essere utile volendo però vabbè insomma e niente signori se può chiudere la porta no e niente e niente non ci sono Il resto del gruppo di Struccionista fino a i zombici sono freddi e si lasciano. Il gruppo di Struccionista che sono tutti zombici? Beh, ovviamente non lo so. Sono bene a presto. Le cose cambiano in questo qui. Ecco, mi sono stata sentita dalla tua mamma. Lei è preoccupata di te. Oh, si hanno riuscì la sua conscienza, non? Vabbè, lei era perfettamente sensibile prima di incontri a Ricky. Ora è come per farvi un paolo di bambini di vivere. Beh, è fortunato che hanno una madre Jessie per farlo. ok va buono va buono quindi noi che si fanno ciao ma grande headshot questo e che cosa ci fa fare a un'altra zona cristo santo essi un essi un essi un no non ha funzionato sto giro e si un cristo si un assicurato che li fa inciampare mi fa morire ciao ragazzi you know you're like you're good at this you're good at apocalypses this stop stop you're making me blush but i'm hey i'm not roxy and me staying out of trouble is like a full-time job man i've only ever been really good at one thing and i barely even do it anymore gods and whiskey is still something to be proud of you were the soundtrack of my teenage years ouch and exactly like what have we done lately i gotta find that spark again man get back in touch with the gods instead of just the whiskey oh farouk gesundheit farouk's our producer he lives next door down a hill like totally obsessive about discographies collects every master tape and unreleased track you could imagine including ours hey some of those have real promise i wonder if maybe sample them hey i'll be right back man tell roxy not to worry right back you're not thinking of going out there for fecking master tapes i know you're not i'm not you're not good at apocalypsing remember i'll get your tapes for one thing being responsible for a new g and w album would mean bragging rights forever aw kick ass if farouk's not home just ask your boyfriend dave to show you around tell them i sent you hmmm if either of them are still there and alive sure oppela salve eh successo fratelli generale una batteria babbo cristo su 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 m***a un conto elettrico questo cristiano no fanfeckingtastic cristo casa di farouk mio zio farouk su ca hai morto così no infatti ma in piscina bro quasi e si no è quello delle api porca mignotta no sali cristo perchè non sale è ritardato eh vabbè unlucky pure il mio personaggio però che potenza su è immortale sto tizio oh no è un altro di quelli immortali non me lo dico no dai forse non vuoi via sta barretta prendi e porta a casa che in realtà a questo cosa serve scusami ah semplicemente a questo che cazzo fa tra l'altro sbattere sul cancello aperto bro vabbò e allora lo tolgo scusami che cazzo cioè che stiamo a fa stiamo a pettinare le bambole siull ciao ora vediamo se se il DJ ha tetti a g e w trattal ooo 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 these are post evacu物 design choices my finely tuned feminine instinct for decor tells me so master tape number 1 hope i get to listen to some of these last tunes Ehm, ehm, oh, cassa fortina, buona. Sono soldini nelle casse forti, babbo, non è resto. Ci sono zombie qua dietro, vero? Mmm, oh, salve, lei è vivo. No, a cristo. Eh, body bloccato. A cristo. Aspetta, va, vi è c'è. Oh, bella, eh, giunta. Eh, buono, buono, mi è piaciuto questo. Cosa aveva? Spada. Non mi piacciono molto le spade. Credo che le asce siano proprio, non so, mi danno un... troppo un ottimo feeling per abbandonarle. Salve. Beh, eh, usiamo lo sto fusibile allora, va. Salve. Oh, salve. Perché questo gioco è sempre così esagerato? Cristo santo. Beh, c'è un bel po' di roba. Più gli altri materiali. Ma qua io mi aspetto un'armona. Buone. Questo? Ah, è di qua. Dave, se questo è il tuo bobbiettrap, non sono più scusato che hai stato stambifato. Allora, proviamo a seguire il cibo. Ok. Ok, ok. Buongiorno a ciò che ci sono in questo. È un'ultima vecchia di partita, questo è. Ufff, la sicurezza e i numeri non ciò che non c'è solo una piccola zombi. Oh, bene, ora per una scuola. Tutti qua ragazzi Tutti 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 Nooo Quello del globo No cos'è just it Bro vattene a fanculo va E che cazzo Olè Una bella grigliata di zombie E passa la paura Non abbiamo più kit medici What the heck Comunque ho sbagliato tasto Per quello ho lanciato la tannica In caso lo stesti chiedendo Eh già Strano eh che sbaglio tasto Non succede proprio mai C'era altro? Si Oggi sono proprio ceccato No Finito? Yes Abbastanza rato Che figata ragazzi sto gioco Oppela La risalve Trishottato Ci posso stare Vi devo dire Ti devo dire Vi devo dire Allora Rikki mi boi The rovin music historian Has returned Oh hey I don't remember calling Do we have an interview scheduled? An interview? No you rampant waste of oxygen I'm back from having A great personal risk mind Recovered your stupid master tapes From your stupid producers Undead house party Faroox? Oh man Dave's gonna be like Heartbroken On which note I bear startlingly similar news Sad note man Like ballad worthy There was this one track We laid down Hey wait Did you say master tapes? I was just thinking About getting those back What an unexpected coincidence This is fucking awesome man I'm going to listen to them right away Proprio incoglionito Oh there are some gems on here You know Some real gems I I think Hey thanks You're like A guardian angel of rock I suppose that's something To put on me business cards Si opera Va buono Boono